Carissimi, pace e bene a tutti, 34esima Domenica del Tempo Ordinario, e solennità di nostro Signore Gesù Caristo, re dell'universo. Vi leggo il Vangelo di Giovanni, Giovanni 18. In quel tempo Pilato disse a Gesù, sei tu re dei giudei? Gesù disse, rispose, dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me? Pilato disse, sono forse io giudeo? La tua gente, i capi dei sacerdoti, ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù, il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di qua giù. Allora Pilato gli disse, dunque tu sei re? Rispose Gesù, tu lo dici io sono re, per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo per dare testimonianza alla verità. Chiunque dà la verità ascolta la mia voce. Come titolo metterei Gesù è Nazareno, il re dei giudei. Se Gesù dice a Pilato che il suo regno non è di questo mondo è perché non ha niente di spartire con l'esercizio del potere di questo mondo, ma ha a che fare con la nostra storia. L'origine della regalità viene da Dio, ma la sua estensione nell'ambito della creazione ci riguarda e come? È vero che Gesù ha preso sempre le distanze dalle forme di potere. Sono venuto per servire e non per essere serviti, oppure beati i miti perché di esse è il regno dei ceni. Gesù è venuto tra noi per testimoniare la verità. È una parola che mette profondamente a disagio l'uomo contemporaneo e il più delle volte la rifiuta. Ma Gesù è il testimone della verità che è fedeltà di Dio alle sue promesse. In questo senso Dio è la verità e lo sarà per sempre e in nostro favore. Gesù ha manifestato il progetto di salvezza del Padre e ci offre la possibilità di coinvolgere anche noi nel dono di sé. Allora fare la volontà è aderire alla Pasqua del Signore per vivere del suo amore per rinanciarlo in mezzo a tutti. Solo una vita autentica che non pensa a sé è una vita libera. Pace bene a tutti, soprattutto ai malati e ai sofferenti.